Paura su di un volo della compagnia American Airlines partito da Miami in Florida e diretto a Milano. L'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza in Canada a causa di una forte turbolenza. Ferite almeno 7 persone, 3 membri dell'equipaggio e 4 passeggeri, l'aereo è atterrato all'aeroporto di St. John's a Newfoundland, sulla costa orientale.